Vieni. Se la gente ci becca mentre usciamo da un curry in fiamme, potrebbe fraintendere. Sì. Hai strappato i poteri a Benedicta. Non li hai ancora, vero? Io. Non fare errori. Voi due da dove sbucate? Sta giù. Finiti a distanza, bello. Non lasciarli scappare. Dai il massimo, bello. Non lasciarli scappare. Dai il massimo, bello. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Non puoi andare a prenderlo. Non lasciarli scappare! Il ponte è chiuso! Andatevene! Oppure si direte in prigione! Stavolta no! Stavolta no! Stavolta no! Occhi aperti! Occhi aperti! Occhiure ragazzo! Occhiure ragazzo! Occhiure ragazzo! Occhiure ragazzo! Converte va veija! Converte! Occhiure ragazzo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo quando è di buon umore. Non voglio sapere che cosa ci attende. Io invece sì. Voglio proprio scoprirlo. E non tornerò indietro. Sono tantissime. Una per ogni frammento della sua mente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.